Siamo giunti al dunque alla terza manifestazione del Best of the Best 2021. È un appuntamento importante per tutti gli appassionati di sport da combattimento e arti marziali. Ci saranno circa 30 match sia a contatto leggero che a contatto pieno. La serata inizierà alle ore 21 all'Anfiteatro di Tolfa sotto la federazione IKTA Italia. Ci saranno dimostrazioni di Kung Fu e di Krav Maga e a seguire incontri di kickboxing. Vi ricordo che comunque il galà serale sarà conformato da 5 match per 5 titoli. Tra cui il match più importante è Alessio Crescentini con Daniano Pace. Per il titolo italiano professionisti di Full Contact, WFMC. Presentiamo all'angolo rosso da IKTA Gym e Cina Lecchia al peso di 56 kg, Andrea De Secco e Rinaldi. Grazie! 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 Un grande applauso a Andrea Rinaldi! Bella Galapia! Bella Galapia! Al peso di 60 kg, un grande applauso a Marco Federo! Marco Federo all'angolo più! Salendo più Marco Federo! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, vai. Grazie a tutti. 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 Bravo. Bravo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Grazie a tutti. 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 Vai, vai, vai. Grazie a tutti. Vai, vai, vai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.